È un momento propizio perché sono uscite una serie di opportunità in termini di finanziamenti sia con il PNRR e sia anche degli incentivi, il governo ha messo maggiori incentivi anche sul settore del turismo. Quindi il nostro obiettivo è quello di portare avanti un turismo sostenibile, di far crescere le imprese e creare opportunità di sviluppo sano che tengono conto poi dell'ambiente che è la cosa più importante perché oggi il turista vuole un green hotel, vuole la destinazione turistica e l'ambiente quindi l'ambiente è al centro del turismo. Perché ci sono le ottime opportunità, delle risorse è importante comunicare sia agli enti istituzionali e sia alle imprese che se vogliono crescere devono andare verso un unico obiettivo che è quello verso la sostenibilità. Questo è il punto di forza, il successo così si avrà e quindi oggi siamo proprio per vedere le opportunità che ci sono gli incentivi che ci sono proprio per far crescere le imprese.